Ma che cos'è esattamente il merito? Possiamo veramente valutare una persona sulla base degli eventuali risultati che riesce o meno a raggiungere? Quando si parla di merito, dietro c'è quella concezione che consiste a credere che ognuno di noi è costruttore e organizzatore del proprio destino, come se tutto dipendesse da noi e come se in realtà bastasse sforzarsi, far fatica, accumulare quindi impegno e tutto quello che ne consegue per poi poter ritirare i frutti di tutto questo sforzo. Sarebbero premiati sempre e solo i meritevoli. Ma ancora una volta che cos'è il merito? È il risultato che si raggiunge oppure tutti gli sforzi che vengono fatti per raggiungere un determinato risultato anche se poi questo risultato non lo si raggiunge? Chi parla tanto di merito cancella tutte le differenze che ci portiamo dietro, la famiglia, il paese, le abilità, le disabilità, ma soprattutto cancella la chance, quell'elemento di fortuna che di fatto in un modo o in un altro ha sempre un impatto molto forte sui risultati che si riescono o meno a conseguire. Di tutto questo vi parlerò nel mio pezzo che verrà pubblicato sul prossimo numero di specchio il supplemento domenicale della stampa.